Buonasera e benvenuti a quest'edizione speciale di TGGina. Ecco, siamo qui per l'edizione speciale di quello che è successo ieri, di questo scandalo che è avvenuto ieri al presidente Berlusconi. Noi in esclusiva vi daremo il rallentatore di quello che è successo al povero Presidente, al povero Duomo soprattutto, che ci ha lasciato così all'improvviso. Guardiamo queste immagini. Perché nel governo di destra una cosa importante è che nessuno di noi... Ha queste immagini troppo forti in cui sto stendendo male. Quindi, buona domenica a tutti! Anzi no, non è una buona domenica.